Il sindaco riservato resta i domiciliari, è giunto ieri il secondo no da parte del GIP Francesco Messina alla scarcerazione del primo cittadino di Trani. Non sono servite a nulla le delucidazioni date da riservato all'interno del lunghissimo interrogatorio di una settimana fa, oltre cinque ore di fronte ai giudici per spiegare la propria posizione rispetto alle accuse mosse dalla procura di Trani. Torna invece in libertà il dirigente Edoardo Savoiardo, funzionario dell'ufficio appalti del comune tranese. Sarà in libertà ma resta interdetto dai pubblici uffici per 45 giorni. Restano dunque ai domiciliari i cinque su sei degli arrestati all'interno dell'inchiesta sistema Trani. Oltre al sindaco riservato lo scorso 20 dicembre sono finiti in manette l'ex vice sindaco di Marzio, i consiglieri Musce e Damascedi e l'ex amministratore unico dell'AMI, Antonello Ruggero. Nel frattempo la prefettura non ha ancora comunicato la propria decisione rispetto al commissariamento o meno della giunta dopo le dimissioni del sindaco e del vice sindaco. Le funzioni di governo potrebbero essere affidate anche all'assessore Anziano, in questo caso Sussi, fino al prossimo 19 gennaio, giorno in cui, burocrazia e formalità permettendo, dovrebbe scadere il termine per il ritiro delle dimissioni da parte di Risebato e di conseguenza il prefetto dovrebbe nominare il nuovo commissario prefettizio.